Sono Andrea, sono il primo giorno di raduno, di ritiro con il Montenegro, sono il quarto giorno di digiuno secco e il primo sintomo, prima di parlare di me, è questa voce che comincia ad andarmi via, quindi quando arrivano i sintomi io sono contento perché vuol dire che qualcosa sta succedendo nel mio corpo. Allora, io ho 58 anni, nel 2017 è morta mia moglie in 20 giorni per un tumore al cervello e un tumore abbastanza aggressivo che si è manifestato all'improvviso. Subito dopo è morto mio padre di un carcinoma gastrico, ho due figli e quindi mi sono ritrovato a gestire un figlio di 14 anni e uno di 21. Quello di 21 mi ha dato fuori di testa e quello di 14 no, per fortuna. Sono diventato padre e madre contemporaneamente senza nessun tipo di aiuto e quindi per me è stato uno shock emotivo molto potente. Nel 2017 sempre mi si è formato un calcolo, ho fatto un'operazione, una litotrissia urinaria che è praticamente un bombardamento, come si usa a dire in italiano, del calcolo che aveva due centimetri nell'arane sinistro e dopodiché mi è comparso un acufene bilaterale a tutte e due le orecchie, che non mi dà fastidio. Da quel momento mi hanno sempre detto, l'urologo mi ha detto di verificare la situazione del mio rene sinistro che poteva essere, poteva subire una compromissione. Nel momento non ho più fatto nessun tipo di esame, non so perché, ma non ho più fatto esami di tipo ecografie, d'aurologi, cose di questo tipo, ma ho cambiato completamente l'alimentazione, ho cambiato l'alimentazione, mi sono approcciato a metodi più naturali di alimentazione con molte verdure biologiche, ho approcciato il mondo dell'antroposofia, insomma tutta una serie di cose, un percorso che ho fatto principalmente per cercare anche di affrontare dei momenti di stress molto profondi che derivavano proprio dalla perdita di mia moglie e dalla crisi che uno dei due figli ha avuto. Dopodiché ho cominciato a praticare il digiuno liquido, sono studiando, sono approcciato il metodo del dottor Filonovo, ho letto i suoi libri e mi ha impressionato molto quello che era scritto perché era il primo libro che spiegava in maniera dettagliata i processi fisiologici è la base appunto di questo tipo di pratica. Ho cominciato quindi a praticarlo, a fare, iniziare con un giorno, due giorni e poi sono arrivato a cinque e questo mi ha portato dei benefici sul piano emotivo, nel senso che sono riuscito a gestire meglio le difficoltà che arrivavano proprio anche dalla gestione della della mia famiglia, quindi dei figli. Mi ha colpito molto questo tipo di nuova consapevolezza sul piano emotivo e quindi ho cominciato anche a studiare attraverso la medicina cinese i collegamenti che potevano esserci tra emozioni e organi. ora mi ritrovo nella situazione in cui praticamente in luglio vado in pensione, io mi ero ripromesso di fare un digiuno lungo in raduno con il dottor Filonov, ma visto che praticamente questa cosa l'ho scoperta da poco, che posso andare in pensione in luglio, ho anticipato questo obiettivo che mi ero dato per il dopo, per la mia vita successiva, diciamo, e quindi sono qui a sperimentare e a cercare di migliorare sempre di più il mio stato emotivo, la mia tranquillità, la mia serenità e la mia pace interiore, ecco questo è il mio scopo principale. Oggi, che è il primo giorno, ho già avuto una rivelazione importante per me e ho sempre avuto un dolore nella zona, diciamo, lombare e dentro di me pensavo fosse il rene sinistro di cui tanto nel 2017 avevo patito, invece il dottor Filonov mi ha detto che non è il rene sinistro ma è la L4, che è una vertebra da cui si dirama un dolore che si propaga sul bicipite femorale della coscia, dietro la coscia destra e questo per me è stata una rivelazione perché non l'avrei mai immaginato, quindi è stato anche un momento di liberazione perché finalmente la paura del rene la lascio andare e invece adesso posso, su che cosa mi devo concentrare, mi posso concentrare e quindi è già una gratitudine per me ed è un primo segnale che mi porto dentro e sono contento e orgoglioso di andare avanti in questo percorso, chissà cosa accadrà, spero di reggere. Sono il secondo giorno di ritiro e il quinto di digiuno secco, sto bene e questa cosa un po' mi colpisce perché quando l'ho fatto a casa stavo male, quindi insomma vuol dire che qualcosa di diverso c'è, a parte la voce che ormai me ne porto avanti così. Una cosa importante che vorrei dire è il supporto che mi arriva da casa della mia compagna che ha fatto anche lei da casa un giorno di digiuno secco per supportarmi e starmi vicino, diciamo dal punto di vista emotivo e che ringrazio perché è tanto dolce e di uno dei miei figli che mi scrive sempre, è preoccupatissimo perché leggo nei suoi messaggi la preoccupazione e che io rincuoro dicendo che sto benissimo, che non ho nessun problema. Oggi la giornata è iniziata con 5 km di camminata, fatta con un amico che io lo chiamo il camoscio perché va su per le montagne, è velocissimo, io non riesco a stare sul ritmo però poi fortunatamente mi aspetta e quindi abbiamo fatto questa bella camminata e poi c'è stato il trattamento con il dottor, diciamo con le massaggiatrici, le terapeutiche, le terapeute di Filono e ho fatto delle cose che non avevo mai fatto prima come queste punture con il sale e che in particolare su un trigger che mi ha fatto molto male sul sul gluteo destro che era in corrispondenza di un dolore che provavo, diciamo, che ho provato fino al giorno prima legato a una vertebra L4, una vertebra lombare e la cosa interessante è che il dolore, diciamo, questo dolore momentaneo mi ha fatto passare, diciamo, questo tipo di nevralgia al bicipite femorale, quindi alla sciatica praticamente e questo volevo segnalare quindi come queste azioni terapeutiche agiscono anche talvolta velocemente. Una cosa interessante che vorrei anche segnalare è che ieri quando mi è stato fatto il massaggio viscerale al ventre mi hanno trovato il fegato molto indurito che sia una caratteristica credo abbastanza comune a tutti quelli che digiunano perché il fegato lavora nell'azione della disintossicazione quindi fa più fatica e però allo stesso tempo il dottor Filono mi ha spiegato che col massaggio viscerale un po' tutti gli organi cambiano posizione, ritornano in asse, nella loro asse e mi è passato quindi una serie di doloretti che avevo e mi è avuto un dolore al braccio, sì, al braccio sinistro qua in quella capsula proprio del braccio che mi è stato spiegato che dipende dal pancreas, milza e cistifellea quindi sto scoprendo un sacco di cose che assolutamente ignoravo e che, diciamo, nessun medico mi aveva dato come feedback e quindi questa è una cosa estremamente interessante e un altro aspetto che segnalo di ieri all'incontro col dottor Filon c'era anche la sua collaboratrice svetlana che ha fatto delle considerazioni interessanti in particolare sul fatto del mindset cioè sull'approccio che si ha quando si affronta una cosa come questa. Io sto sentendo molta gioia e molta allegria infatti con un amico non facciamo altro che scherzare e ridere e stiamo attenti di non ridere troppo perché c'è gente che soffre anche ed è una cosa un po' paradossale perché non capisco dove arriva questa allegria e questa gioia cioè mi sembra una cosa così strana perché anche nonostante il fatto di provare a questi dolori mi viene da ridere lo stesso e quindi mi verrebbe anche adesso da ridere probabilmente domani non riderò però o dopo domani mi verrà la crisi acidotica o forse proprio questa è la crisi acidotica vai a sapere però sta di fatto che il mio umore è molto positivo e quindi mi dispiacerebbe vorrei dire a quelle persone che soffrono in particolare ce n'è una del nostro gruppo che spiange tanto e non so non saprei cosa dirle ma mi piacerebbe cambiare questo suo mindset questo suo modo di essere di queste emozioni che prova e ci sarebbero tante altre cose da dire anche legate alle emozioni che sono collegate alle vertebre perché la L4 e L5 ho letto proprio ieri che la medicina cinese le colleghe alla gioia e all'allegria anche oltre che e quindi ho pensato sto a vedere che il trattamento che mi hanno fatto mi ha anche sbloccato dal punto di vista emozionale e niente queste sono delle riflessioni che faccio vi saluto in bocca al lupo a me stesso per i prossimi giorni sono al terzo giorno in Montenegro di raduno e al sesto di digiuno secco e ok la mia testimonianza per oggi la dividerei in due punti diciamo la parte fisica e la parte animica cioè la parte delle emozioni e delle considerazioni un po' più diciamo non fisiche e la parte fisica è quello che segnalo che non ho dormito neanche un minuto e è stato divertente perché mentre le altre persone entrano nel panico se non dormono io ho pensato che se non dormo vuol dire che in qualche modo l'universo non vuole che dormo nel senso che il mio corpo lavora al posto mio quindi se il corpo lavora come faccio a dormire mi sembra una considerazione abbastanza logica e quindi mi sono lasciato non dormire tra l'altro la cosa ridicola anche che dei cani hanno cominciato ad abbaiare per tutta la notte o per le prime tre ore della notte perché io inizialmente avrei voluto mandare a quel paese come l'avrei fatto prima di fare il digiuno poi mi arriva da ridere a pensare a questi cani che abbiavano si incazzavano di notte quindi la cosa è stata anche divertente li ho lasciati abbaiare nonostante quando ho deciso che effettivamente dovevo passare la notte sveglio non dico che mi sono addormentato ma sono entrato come nella fase di trance di dormivelia sono rimasto lì in una situazione di riposo ma non dormivo e ne diciamo ero sveglio quindi è stata una cosa un po' strana questa notte ma non mi ha dato nessun problema dal punto di vista energetico perché mi sono svegliato alle 6.30 e ho camminato lungo il mare questa volta volevo camminare avanti e indietro sul bagnasciuga l'ho fatto ed è stato diciamo piacevole perché insomma oggi la mattina era una bella giornata e dal punto di vista fisico la cosa strana io ho di solito i piedi freddi e anche questo dipende dalla vescicola biliare che comunque mi hanno trattato il primo giorno di massaggio e stavolta mi sono svegliato mi sono fatto i piedi di chi sono questi piedi? non sembravano i miei piedi perché erano, non dico neri ma erano praticamente marroncini e caldi questa è una situazione un po' strana evidentemente è vero quello che dice il dottor Filon cioè praticamente il corpo si autoripara dove decide, dove ci sono le debolezze maggiori l'altra considerazione che per me invece è molto importante io prima di venire a fare questo digiuno ho fatto il cambio visus degli occhi e ho modificato le mie lenti mi hanno detto che è leggermente peggiorata la mia omiopia passando comunque non tanto a un grado diciamo sull'occhio destro a 0,75 sull'occhio sinistro e quindi ho rifatto le lenti venendo qui mi è stato detto che dovevo togliere le lenti proprio per il motivo per cui il corpo si autoripara in digiuno ero un po' scettico ma ho tolto le lenti e ho pensato ma non vedo niente a questo punto e oggi mi sono accorto che vedo lontanissimo cioè io non sono più biope e questa è una cosa strana anche questa mi fa ridere perché dico e oltretutto mi era comparsa anche una cosa una difficoltà di leggere da vicino adesso non mi viene in mente il termine di questa condizione visiva e vedo bene anche da vicino quindi sono curioso andando avanti di vedere quanto migliorerà ancora la mia vista e questo mi invoglia a continuare questa prassi anche quando sarà finita questa esperienza qui in Montenegro nel senso che mantenere quindi una periodicità e una costanza dal punto di vista diciamo animico sì poi c'è la voce che sentite sempre un po' così non è la mia voce la voce è un po' più bassa però va bene insomma non mi spaventa ho superato il mio record che a casa cinque giorni per me è stata una cosa terribile perché sono arrivato il quinto giorno con un crampo che mi ha durato dieci minuti sulla gamba destra cosa che non mi è successa qua sono al sesto giorno mi hanno trattato in particolare queste due vertebre che di cui ho raccontato nei precedenti interventi è l'equattro e l'equattro e l'equattro da cui dipende lo sciattico e quindi la gamba destra e non ho tolora più la gamba destra e quindi interessante questo aspetto no? e oggi anche riguardo l'approccio delle operatrici mi secca a chiamare massaggiatrici che sembra ridottivo perché sono la più brava dei nostri fisioterapisti in Italia o dei fisiatri quindi io li chiamerei operatrici perché sono molto disponibili e oltre ad essere molto gentili e essere sempre sorridenti sapete bene che se uno va in ospedale gli viene solo da suicidarsi e vedere le facce dei medici in Italia invece qui, tu vieni qua hanno una competenza enorme sono vestiti come me ma ridono e scherzano anche il tuo filo scherza in continuazione parla in russo e scherza avrebbe da ridere senza capire quello che dice però alla fine ha una competenza enorme e questa cosa c'erano anche le sue operatrici che evidentemente sono in sintonia si sente questa sintonia tra di loro ma soprattutto c'è disponibilità e non saccenza i medici italiani sono molto saccenti gli dici guardi che mi fa male un mignolo e ti dicono non è vero e tu vai a casa e costrò dolore il mignolo qui invece mi hanno messo ste api sulle vertebre nella zona diciamo lombare mia e poi io ho detto che il giorno prima mi faceva male un trigger point che è un punto, un riflesso dell'organo sul gluteo e lei mi ha messo un'app sui gluteo e questo significa che mi ha ascoltato pur essendo russa e senza capire l'italiano ha capito che io parlavo del gluteo invece che se io sono in Italia e parlo in italiano come ha detto italiano non mi capisce come sta storia che io parlo in italiano una russa che non capisce l'italiano mi capisce ecco questo secondo me è magico è molto bello e questo implementa un senso di gratitudine che provo verso queste persone che reputo comunque molto intelligenti e molto preparate dal punto di vista animico io sono sempre nonostante i doloretti vari pieno di gioia e di felicità e questo è una cosa particolare perché mi dura da tempo da giorni di solito io i miei momenti down invece il primo momento non ce li ho boh va bene così prendiamo quel che è sulla spiaggia ho fatto mi piace molto lavorare sulle metafore ho fatto una metafora ho raccolto tre sassolini casualmente uno era nero bitorzoluto con una vena di quarzo l'altro era grigio il terzo era bianco e ho pensato che quella è la mia trasmutazione il passaggio dal seriale che era sarei stato io ero quel pezzo quel sassolino nero con queste venature tutto bitorzoluto ero quello così magari era il mio fegato adesso mi immagino il mio fegato come quel sassolino grigio liscio ma pur sempre grigio è quello che voglio da questa esperienza diventare quel sassolino bianco immacolato e liscio questo è il mio se ideale e questo se io raggiungerò ciao sono al quarto giorno di raduno e al settimo giorno di digiuno secco come sentite la mia voce è sempre più sexy però vabbè tornerà normale vi parlerò diciamo della mia notte perché questa notte è stata la prima notte che ho avuto difficoltà nel senso che ho avuto credo dei sintomi della crisi acidotica un po' più evidenti cioè ho avuto una nausea come posso dire una nausea quasi premonitrice di un vomito cosa che però non è successa e poi giusto per movimentare la notte che praticamente ho dormito dalle 20 a mezzanotte poi quando è arrivato il giorno diciamo il settimo e ho avuto tutti questi problemi è arrivato il terremoto quando sono per dormire quindi mi sono risvegliato ho ringraziato il terremoto in maniera ironica e mi è avuto un crampo ai piedi sotto la pianta dei piedi quindi in zona plantare cosa che già conosco quindi mi sono portato mi ero già portato una pallina di gomma ma è adatta proprio questo e ho fatto diciamo dei movimenti con il piede per diciamo alleviare il crampo che è passato ho avuto ammetto di aver avuto un po' di paura e allora a quel punto lì ho pensato di pregare però mi è venuta un'intuizione che non avevo mai avuto prima di solito pregavo Dio facevo il Padre Nostri però diciamo non cazzo non succede niente e boh allora pregavo non so gli angeli l'angelo custode niente e adesso ho detto aspettavo a vedere che forse sto sbagliando qualcosa e ho cominciato a pregare il mio Dio interiore e la cosa assurda e la sono inventata la preghiera lì per lì quando ho cominciato a nominare il Dio interiore anche adesso mi succede mi sono venuti dei brividi dall'alluce fino alla testa e è una cosa particolare perché forse è lì che dobbiamo cercare e questa è la cosa interessante perché il Dio interiore è anche il Dio che sta fuori e sta nel cosmo alla fine noi siamo particelle del cosmo pregare il proprio Dio interiore è anche assumersi la responsabilità perché nel momento in cui io prego un Dio esterno attribuisco a Lui la responsabilità di farmi star bene ma se io prego un mio Dio interiore significa che riconosco in me la forza di poter guarire da solo e questo per me è stata un'ispirazione perché non l'avevo mai pensata così mi è successa qua e quindi la reputo un incremento di forza spirituale animica che mi sta accadendo nel momento in cui sto indebolendo il mio corpo quindi volutamente ma non indebolendolo diciamo lo sto attivando è un'attivazione del corpo e questo mi fa pensare a un altro collegamento secondo me noi abbiamo due componenti di io mentalmente già lo sapevo ma adesso le sto vedendo meglio una è una componente egoica abbiamo un io egoico che si nutre di vittorie e di competizione l'altro è un Dio io coscienza un Dio coscienza che ci connette con l'universo con le parti superiori con i mondi superiori nel momento in cui io tendo a non nutrire il corpo nutro l'anima cioè le emozioni e lo spirito e mi avvicino all'io coscienza quando sono nella coscienza ho queste ispirazioni molto spesso anche qui mi capita di cedere nell'io egoico per cui aspetta che faccio un chilometro di più aspetta che vado un po' più veloce aspetta che mi sveglio prima no perché non dormo mai quindi aspetta che faccio le cose meglio e invece no no non serve proprio perché devo fare le cose meglio di chi se non di me stesso bisogna liberarsi secondo me da questi pesi inutili non dobbiamo rendere conto nessuno noi non siamo in corsa con nessuno siamo soltanto qui per imparare con noi stessi questo è quello che penso profondamente riguardo la mia crisi invece fisica questo è tutto diciamo quello che ho partorito diciamo dal punto di vista animico questa notte perché di notte che vengono le crisi in particolar modo visto che oggi sto bene di giorno e che bisogna sapersi ascoltare molto bene io oggi non farò 10 km da protocollo visto che gli amici russi dicono che noi italiani siamo dei protocollatori no per cui scriviamo perfetti mi sono guardato il quaderno è proprio vero anche sottolineo e adesso esco dal protocollo io oggi non faccio 10 km mi dispiace ai russi non faccio 10 km ne farò 5 forse 4 forse 3 faccio quello che voglio oggi ecco questo è diciamo quello che dico ai miei amici russi altra cosa che volevo dire sì una cosa ridicola che mi ha fatto ridere mentre stavo male è che oltre ai crampi e la nausea ho avuto un'erezione ma è stata un'erezione stranissima soltanto questo la taglierà a sveta me la dico perché non avevo nessun tipo di pensiero e quindi ho pensato almeno la zona pelvica funziona perché non funziona niente non funziona il fegato non funziona la schiena non funziona il pancreas non funziona la milza almeno un po' più sotto sono ancora operativo anche se non era il caso però vabbè questo è diciamo per buttare a sorridere adesso concluderei con una cosa che sicuramente la regista dall'altra parte del monitor chiamiamolo monitor taglierà ma per cui la dico perché tanto lei taglia è molto divertente fare questi video con una regista nella posizione del loto a piedi nudi ciao quinto giorno in Montenegro diciamo sono all'ottavo giorno quindi domani in teoria il nono giorno fatidico e la mia voce è sempre più carente ancora adesso bene non sto benissimo cosa di cui mi rallegro perché questa notte ho avuto diciamo una crisi di vomito di muco bianco e denso non riuscivo a respirare ho cercato di vomitare di nuovo inserendomi le dita nella bocca perché proprio non riuscivo allora ho deciso di andare a camminare erano le erano le 19 sono andato fuori mi ero imposto non imposto però ho deciso di camminare di meno perché le forze sono sempre di meno quindi ho detto camminerò di meno avevo fatto 3 km infatti nel video di ieri ho detto questo e mi sono ritrovato a camminare mentre camminavo il mio respiro si faceva più più diciamo limpido in qualche modo ogni 20-30 metri spettoravo quindi è stato tipo un cammino un po' particolare perché insomma ho girato intorno al paese alla fine ho fatto 10 km senza volere e poi mi sono addormentato e quindi dopo 3 giorni di insonnia ho dormito cosa di cui sono grato perché adesso voglio parlare di mio stato emotivo sebbene negli altri giorni ero allegro anche voglioso di fare battute di scherzare e sono entrato in uno stato contemplativo nel senso una ricerca di un'intimità mia personale quasi un distacco dagli altri ma non in senso negativo più che un distacco un entrare dentro di me quindi un isolamento curativo quando ho sentito camminare infatti mi sono messo il cappuccio poi mi sono accorto mi sono messo il Walkman e ho ascoltato un po' di musica che mi era portato finalmente me la sono ascoltata è stato piacevole ed era nel mio mondo ho pensato a tutte le persone alle quali ho voluto bene nella mia vita ovviamente i miei genitori che ho perso la mia moglie e la mia compagna attuale soprattutto che amo tanto ho fatto delle riflessioni in profonde che adesso qui non c'è il tempo di spiegare e durante la notte ho fatto un sogno strano ho sognato che ero in una festa in maschera ma io ero l'unico senza la maschera e dopo c'era un'altra persona che mi guardava una persona che non ho mai conosciuto e che è ancora adesso in mente e mi osservava e anche lui non aveva la maschera e mi domandava come mai noi due non abbiamo la maschera cercavo la porta per uscire perché mi dava fastidio stare in mezzo a questa festa in maschera con tutte queste persone che non capivo che fossero poi quando ho visto la porta mi sono svegliato ed erano le 5 e mezza di mattino che per me era un orario fantastico perché avevo già dormito e sono contento complessivamente diciamo del percorso nella sua interezza che riconosco negli stati emotivi come si è sviluppato fino ad oggi delle cose che sono capitate devo ammettere che oggi ho sete diciamo se potessi valutarla da una scala da 1 a 10 2 al 10 il massimo oggi ho sete livello 4 mentre negli altri giorni avevo livello 3 solo di notte oggi ho livello 4 anche quindi un livello medio-basso anche di giorno guardare i mari mi fa una gran voglia di buttarmici dentro ma ci hanno detto che non si può mi facerebbe almeno mettere i piedi o le gambe dentro questa è una cosa che mi facerebbe fare ma insomma mi atterrò a quelle che sono le indicazioni sicuramente che derivano da un background di esperienze che hanno loro insomma che sono sicuramente fondamentali sono il sesto giorno di raduno in Montenegro e il nono giorno di digiuno secco complessivo e ho diciamo le mie condizioni sono relativamente buone perché come energia sto bene la mia pressione che mi ha misurato il dottor Pirino oggi è perfetta secondo i miei parametri che sono cento e settanta io tendo ad avere una pressione normale bassa quindi confermata e la notte e tutto il giorno la notte ho espettorato e ho vomitato catarro un catarro particolare che non ho mai avuto bianco e vischioso e come posso dire molto attaccaticcio una roba strana quasi collosa per cui faccio molta fatica a espellerla e mi comporta dei grossi sforzi a livello proprio di ventre e di gola molto dolorosi però non mi lasciano un dolore dopo il problema è che ogni volta che riesco a spettorare mi si riforma quasi subito il medico mi ha detto che può essere possono derivare dallo stomaco oppure del colon quindi dell'intestino da altre parti del corpo secondo di non si sa quale ragione dove sono più pieno probabilmente io fin da piccolo ho problemi di sinusiti e riniti probabilmente mi la porto dietro come caratteristica mia e ho la sensazione di verla ancora dentro tanto quindi la notte però dopo un certo punto sono riuscito a dormire è stato un sonno ristoratore dopo un certa ora mi sono svegliato tardi ho perso le lezioni di yoga e mi sono venuto alle nove a fare questo controllo e questo diciamo è la mia condizione fisica per cui io ho chiesto di poter continuare fino a un decimo giorno perché mi rendo conto che dieci giorni a casa non li farò e questa è un'opportunità per cercare di buttare fuori più stavo parlando una parolaccia più catarro diciamo possibile perché quindi domani il medico a mezzogiorno è un orario in cui faremo diciamo il massaggio adesso sono un po' annebbiato non ricordo il massaggio e mi dirà se è il caso che continuo fino a un giorno successivo oppure che devo interrompere chiaro che se devo interrompere alle dieci mi girerebbero un po' le scatole perché tanto vale interrompere alle cinque ma a questo punto tanto vale che continuo e questo diciamo è la mia riflessione sul piano emotivo mi rendo conto che sono i miei organi che parlano ormai non parlo più io per cui certe volte mi parla il fegato altre volte mi parla la vescica la bigliare altre volte mi parla è una roba strana però insomma è anche divertente io lo dico in ogni caso qualunque organo parla cerco sempre di avere questa autorionia questa ironia che ho sempre che mi ha sempre contraddistinto anche nei momenti più brutti della vita e quindi come dice come si dice nel film di Blade Runner ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare settimo giorno di raduno in Montenegro decimo di giorno secco scusate per la voce spero di recuperarla e allora con il dottor Filano siamo rimasti d'accordo di procedere perché è molto catarro muco lui mi ha detto oggi che esce dal fegato e quindi abbiamo accolto l'opportunità di fare un giorno in più e non vi dirò dal punto di vista biologico come sto salvo che i miei parametri siano buoni vi dirò cosa penso cosa sogno allora avete presente qua di fronte c'è il mare io sogno che il mare sia pieno di birra poi l'ho cambiato col prosecco che vi no la conoscete e ho tutte queste visioni perché è una sete pazzesca non ho fame fame proprio nausea non solo se ho preso il cibo mi viene nausea ma la sete è una cosa terribile e allora mi sono ricordato una cosa quando ero piccolo diciamo dagli 8 ai 14 anni con i ragazzini del quartiere dove vivevamo andavamo in una radura a giocare a calcio e sulle pendici della montagnola di roccia c'era una sorgente che usciva dalla roccia di acqua fredda quest'acqua decantava in un piccolo bacino di roccia sotto e al turno noi bambini andavamo scalavamo questa pendice e arrivavamo su questa pozza era tutto pietra io mi ricordo che buttavo la testa dentro in agosto con 40 gradi e bevevo bocca aperta è uno dei ricordi più belli che ho di bambino che mi è tornato e non farò la stessa cosa qua però ho un termos che ha una base fonda così larga caricherò l'acqua calda e mi tufferò dentro con la testa e ritornerò a quei momenti di bambino e così il mio bambino anteriore sarà felice ovviamente questa pratica non la consiglio a chi non la consiglio a chi è rimasto bambino anche da adulto nel mio caso invece può essere una cosa piacevole solo a pensarci mi vengono i brividi di felicità quindi questo farò poi un'amica mi ha regalato un bicchiere speciale una specie di santo graal un bicchiere con una forma così e quel bicchiere lo utilizzerò per il siero di bolatov e per il compote che invece sono i liquidi più nutrienti che qui ci preparano e quindi ho queste due metafore davanti la metafora del mio bambino anteriore che sboccia dentro di me di nuovo nonostante questa voce che ho oltre 90enne e poi il santo graal il mitico santo graal quindi io adesso ho queste visioni e poi vi racconto una battuta e vi lascio perché la voce l'ha e ho chiesto mio figlio di comprarmi poi ci diranno qui quando potrò bere una bottiglia di un vino che si chiama Ribolla Gialla un po' secco e poi gli ho detto prendimi un sidro che è biologico e la mia compagna ha detto la stessa cosa perché so che uno dei due si dimentica se mi va bene mi ritrovo quattro bottiglie e se mi va male me ne trovo due malissimo zero nel dubbio me le sono ordinate così insomma ho ordinato un pacco di bottiglie questo è per scherzare ma per dire che la sete in questo momento nel mio caso è molto intensa e ho proprio questo desiderio di riprendere a bere questo è una cosa che è un po' difficile qui quando si vede gli altri con il boccale che bevono avrei voglia di andare agli strappargli dalle mani ma non ho la forza per farlo per cui cerco di evitare lo sguardo ottavo giorno in Montenegro e oggi sono uscito da digiuno all'undicesimo alle ore 5 come indicazione del suo staff ho seguito diciamo le indicazioni il protocollo di uscita devo dire che con grande non so come definire non gioia con grande aspettativa che arrivasse queste 5 di mattina chiaramente perché ero pieno di sete e la cosa interessante è che appena ho bevuto sono corrugato in un sonno profondo un grandissimo sonno come non ricordo di aver mai provato proprio un sonno naturale per cui mi svegliavo mi sono svegliato in una circostanza per rispettare diciamo certi impegni che abbiamo qui con la bocca aperta senza rossare con la bocca aperta che respiravo una roba stranissima perché io di solito dormo con la bocca chiusa vuol dire che proprio il mio livello di relax diciamo di pace è molto alto e ho proseguito diciamo con le le cose che bisogna bere c'è il siero di bolotov che è abbastanza acido io l'ho fatto a casa ma non era così acido d'altronde deve essere acido per rispettare il ph dello stomaco dell'intestino quindi ha un senso tutto questo e poi poco fa ho assaggiato il compote che io quando faccio a casa praticamente è dolcissimo perché probabilmente esagero quella frutta mentre qui è molto leggero e questo diciamo è quello che è successo sul piano emotivo a parte a parte la voce che sta migliorando come sentite anche se lentamente non mi aspetto che da un giorno all'altro mi vengano voce fantastica sul piano emotivo invece ho diciamo questa pace interiore mi sta portando una serie di considerazioni diciamo che faccio che sono che hanno il comune denominatore proprio di una sorta di armonia che temo di perdere quando tornerò nella civiltà però non è che temo sento che quando una cosa la raggiungi quella cosa per sempre nel senso che hai imparato qualcosa e bisogna mettere in pratica queste cose più che bisogna è importante mettere in pratica queste conoscenze per mantenere questo stato di benessere oggi ho pensato in maniera un po' diversa alle persone che ho amato in particolare le donne che ho amato e ho scusato un attimo e ho pensato a a a a ho 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 pensato a mia moglie Marisa e poi ho pensato a Elisabetta quello che penso è che l'amore che mi ha legato a Marisa è lo stesso che mi lega a Elisabetta non è diverso è la stessa identica cosa non cambia è lo stesso amore che ci portiamo dentro non ha diciamo una natura diversa quella per una donna per l'altra o per un partner o per l'altro è lo stesso che vive dentro di noi e che si propaga questa è diciamo la riflessione che ho fatto e che mi porta diciamo questa emotività che non riesco a controllare e per me è una sorta di stato di grazia quando penso a queste due donne penso che le abbiamo entrambe comunque adesso che mi sta vicino Elisabetta per cui io lei le mando i miei pensieri più puri in questo momento perché lei che in questo momento è vicino a me e con questo è tutto domani racconterò invece la musica che ascolto vi saluto sono al nono giorno di ritiro a Montenegro al secondo di uscita al digiuno e come sentite la mia voce sta ritornando e questo per me è una buona notizia perché prima mi sentivo tipo personaggio cinematografico fantossi e quindi sono contento e dal punto di vista fisico ho diciamo attraversato ieri una giornata di sonnolenza di rilassamento fantastica che mi piacerebbe tanto poter riprovare ero quasi io non mi sono mai drogato però posso immaginare che uno che si droga sia in queste condizioni con un certo tipo di droga ovviamente quindi immagino che il mio corpo abbia prodotto endorfine ossitocine sostanze ormoni di tutti i tipi perché la situazione era veramente strana quello che mi è capitato nel corso della notte questa notte avendo bevuto tanto e sono dovuto mi sono svegliato qualche volta due o tre volte per andare a urinare e poi mi sono riaddormentato subito e ho fatto dei sogni lucidi nel senso che sognavo dormivo ma ero dentro il sogno quindi una roba molto strana per cui praticamente mi ritrovavo dentro il sogno e potevo decidere se andare da una parte o dall'altra e questa è una sensazione un po' strana no? perché i sogni lucidi io non mi ho mai fatti e quindi anche questo è stato divertente nel sogno che ho fatto mi trovavo a Montmartre dove c'è ci sono tanti artisti quindi in Francia tanti artisti che dipingono per strada insomma ambulanti non so come definirli e lì guarda caso ho sempre visto questo signore che ho visto nel sogno che ho fatto qualche giorno fa che mi guardava con questo sguardo inespressivo però qui almeno non c'erano non era una stanza non c'erano porte per cui non dovevo scappare da nulla perché era piacevole tutto sommato e questo è il sogno che ho fatto è una cosa divertente che all'interno del sogno io come andavo dove andavo cioè non ero preda del sogno ma ero io che dicevo adesso vado a vedere quel quadro adesso mi sposto a destra quindi era una situazione un po' anomalia non ho mai vissuto una situazione così e questa è anche una particolarità diciamo che ho vissuto che sto vivendo in questo momento le forze mi stanno tornando così come la voce l'esperienza è sicuramente tostissima credo che sia tra le due esperienze che ho fatto così importanti nella vita ne ho fatte tante ovviamente perché sono vecchio però una era il cammino di Santiago mi sono fatto questi mille chilometri e adesso faccio questo quindi le metto allo stesso livello perché sono esperienze che ti cambiano e ti modificano proprio all'interno ecco una cosa che volevo dire a chi approcerà questo percorso ma che è scontata sicuramente per tutti gli operatori che sono qua è che il digiuno fa sì che molte tossine secondo me si trasformano in emozioni gli organi parlano praticamente e quindi bisogna accorgersi per tempo quando un organo ci dice una cazzata scusate il termine e molto spesso non ci si accorge perché proprio si è in preda all'organo per cui uno può avere paura rabbia eccetera e per questo significa che bisogna filtrare molto le cose che si dicono anche a me è capitato di aver detto una boiata e una persona si è risentita per me era una stupidaggine non significa che bisogna stare zitti più del previsto però bisogna fare molta attenzione a questi aspetti emotivi perché magari tu sei un giorno avanti o un altro o due giorni indietro e le emozioni cambiano e quindi questo fa sì che il livello di attenzione deve essere alto l'attenzione dipende dalla consapevolezza più sei consapevole più sei attento allora quando tu ti accorgi di essere disattento vuol dire che stai perdendo il centro della consapevolezza tua quindi questa diciamo è la riflessione che faccio adesso che dovremmo portarci sempre nella vita che riguarda tutti gli ambiti sia familiari che con gli amici sul lavoro eccetera bisogna sempre cercare sempre di mantenersi nel centro perché se ti sposti dal centro succedono guai più o meno grandi perché non tutte le persone te le dicono queste cose però in digiuno hai la capacità di cogliere diciamo cosa dagli sguardi anche se uno non te lo dice cosa hai sbagliato quindi questa è la considerazione che ho fatto ieri avevo detto che avrei parlato della musica concludo tra poco molto importante secondo me portarsi tanta musica io ne ho scelta a secondo degli stati emotivi nel senso che mi sono portato un po' di rock mi sono portato anche heavy metal che non ho ascoltato e mi sono portato qualcosa in musica classica in musica pop in musica un po' di tutti i tipi e mi sono ritrovato ad ascoltare delle canzoncine anche banali talvolta ovviamente mi sono portato anche a Pink Floyd ma mi sono ritrovato ad ascoltare una canzone che si chiama Nada Particular niente per di particolare di Miguel Bosé che non ascolto però quella canzone a me è piaciuta molto perché porta un grandissimo insegnamento dentro no? adesso non ricordo le strofe perché sono troppo concentrato e perché quella regista davanti nella presione dell'otto che mi guarda e quindi a parte questo se avete modo ve lo ascoltate e via mi sta ritornando il buon umore insieme alla voce e nei prossimi giorni ci saranno altri filmatini altre interviste mute però io oggi vorrei dire vorrei salutare in anticipo diciamo i compagni di avventura che so che mi mancheranno quando tornerò a casa perché sono tutte persone eccezionali d'altronde chi fa questa esperienza non può che essere una persona eccezionale decimo giorno di raduno e terzo di uscita quindi questo è l'ultimo giorno come sempre io non ho preparato nulla da dire però le cose mi vengono al volo una cosa particolare che ho notato è come il tempo meteorologico si sia adattato o forse io mi sono adattato a lui o lui si è adattato a me nel senso che siamo arrivati con con un tempo incerto abbastanza freddo e umido così io mi sentivo dentro infatti ho chiesto la stufetta perché avevo freddo me l'hanno portata subito molto gentili non mi erano neanche accorto che c'era la pompa di calore che comunque bisognava tenerla chiusa perché di notte diciamo secca un po' le fauci e secca la gola e comunque la stufetta ha fatto il suo effetto e durante diciamo questa settimana così come è evoluto il mio umore la mia la mia emotività è cambiato anche il tempo abbiamo affrontato giornate miste di sole e pioggia con piovaschi misti che con un'altra persona abbiamo preso mentre camminavamo su un sentiero così come è arrivato diciamo i cavalloni delle onde del mare sono arrivate fino diciamo al porticato dell'hotel per cui abbiamo visto le maestranze proteggere diciamo questo porticato con delle tavole e quelle giornate c'era il mare veramente in burrasca per dire un termine corretto italiano e fino ad oggi così così mi sentivo anch'io così come il tempo e ad oggi ci si è alzato un vento questa notte potente un grecale credo e che scuteva proprio anche le le finestre forte forte mi è ricordato molto la bora della Trieste dove vivo io e il giorno dopo oggi c'è una giornata limpida il sole è splendido non c'è una nuvola il mare è calmo è un po' come mi sento io adesso e quindi questa è una metafora un po' strana perché di solito sembra quasi di vivere in un Truman Show in cui le cose sono perfette e così è accaduto dal punto di vista cambiando discorso dal punto di vista diciamo delle cose che mi porto dietro dei doni che mi porto a casa e tutte le riconoscenze in più perché come vedete non sono più un giovincello tutte le riconoscenze in più sull'alimentazione e sono spesso cose completamente diverse da quello che abbiamo sentito dire dai ma anche piccole piccole chicche sui superfood dai dai semi di zucca per esempio oppure della polvere delle corna di cervo di cui ignoravo completamente l'esistenza e così anche dall'utilizzo più frequente di cereali nella mia alimentazione non utilizzavo molto i cereali quindi dal miglio il grano stracelo l'avena con una sequenza diversa l'avena di mattina per esempio perché è più diciamo è ottimale in quel tipo di orario e poi il grano stracelo più verso la sera quindi è così queste cose dico ma tantissime altre che sono state un motivo di grande diciamo interesse da parte mia è sicuramente un motivo di modificare quella che è la mia alimentazione questo è quello che farò sicuramente cioè modificherò ulteriormente l'alimentazione la cosa interessante e divertente è stato anche il dialogo il colloquio continuo con i miei compagni di viaggio e con i quali ho trovato un bel rapporto direi e che ci siamo passati ricette di tutti i tipi ovviamente salutari perché è chiaro che uno che viene qua ha già una base di partenza per cui chi ti consiglia la fabbrica non la fabbrica diciamo il coltivatore di nocciole chi ti consiglia come fare determinate cose a casa per conto tuo insomma queste sono cose molto belle che fanno hanno fatto gruppo ma soprattutto sono informazioni importanti riguardo lo staff hanno già detto tutti i miei compagni di viaggio diciamo sono stati molto professionali ma anche molto simpatici mi collego anche a quello che ha detto la Rosa Maria sono stati anche molto diciamo duri quando serve perché lamentarsi è facile però certe volte bisogna stoppare queste lamenteli e certe volte lo fanno anche col sorriso e quindi ho come una risata quasi da joker e quindi diciamo questo è estremamente divertente e riuscire a assorbire la 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 sberla perché ti danno una sberla però alla fine devi trovarti che ridi lì tutto intontito con sta sberla per cui è una cosa invece sapevo benissimo che certe volte le sberle le puoi dare facendo veramente male un'altra cosa che volevo dire è come dicevo in apertura sono il terzo giorno di uscita sentite la mia voce se mi avete seguito nelle precedenti interviste l'ho quasi recuperata completamente dal punto di vista fisico biologico sono ancora stitico però non posso pretendere dopo tre giorni però mi sembra che oggi si possa bere il caffè quindi questo chiederò diciamo allo staff o mi danno una sberla o mi danno caffè quindi in ogni caso sono felice e invece quello che mi sento di dire è che per chi approcerà questo questo tipo di esperienza che è soggettivo l'uscita che forse è meglio uscire al quinto giorno cioè andare a casa al quinto giorno e soprattutto se uno è in macchina perché non sai mai quello che può succedere nel senso che ti possono venire dei momenti di debolezza dei mancamenti eccetera nel mio caso io mi sento bene per cui diciamo resterò ancora qua fino a sabato però diciamo non intravedo dentro di me dei grossi scossoni dal punto di vista della pressione eccetera considerando che io ho già la pressione bassa quindi ho avuto nei giorni scorsi un po' di camminavo storto però quando passavo uno dello staff mi fermavo sorridevo per non farmi vedere che camminavo storto ovviamente perché un po' di dignità bisogna sempre averla questo è tutto vi saluto vi voglio bene forza con digiuno secco provateci